Ogni anno vogliamo migliorare non solo la squadra ma anche le persone che lavoravano per il bene della squadra e alla mia disposizione. Che vuol dire questa cosa? Che gli altri dell'anno scorso non erano buoni? Per niente. Per niente perché per finire il secondo bisogna che quelli che erano con noi l'anno scorso sono non solo bravi professionisti, i due dottori, Paolo Rongoni, sono veramente bravi professionisti ma anche buone persone, ma è la nostra scelta e la mia in particolare di far migliorare ogni anno le cose. E io ho deciso con il Presidente di prendere ancora persone di grande qualità che ci portarà, speriamo, a avere una stagione, speriamo, con meno infortunati. Quello che posso dire è che Ed lo conoscevo perché Ed è venuto spesso l'anno scorso, è Lippi e che ho scoperto Darsi e che la cosa che mi piace in Darsi è anche il suo buonsenso. È una persona che ha delle certezze o delle convinzioni più che delle certezze, anche se in preparazione atletica possiamo avere un po' più certezze che nel calcio, nel palone, ma convinzione forse sono meglio e soprattutto è uno che cerca di spiegare ai giocatori perché facciamo queste cose. E sono cose per me intelligenti perché la preparazione fisica deve essere quasi richiesta dai giocatori perché sanno che se sono al top, se migliorano sul piano fisico, allora potranno mettere sul campo ancora meglio le loro qualità tattica e tecnica.